Cari amici ben ritrovati da Giuseppe De Vitis. Cosa dicevano le tradizioni? Per Santa Lucia e per Natale il contadino ammazza il maiale. Tradizioni però anche meteo, tradizioni che in genere vedono l'arrivo di correnti un po' più miti ed in effetti dopo il freddo che abbiamo avuto nella prima fase di dicembre, adesso le correnti sono mitigate. Avremo infatti un Natale, facciamo la rima, più autunnale, guardate con nuvole che da ovest avanzano verso est, perturbazione che dispenserà delle piogge anche se tenderanno un po' a sfilare verso, vedete, la Liguria, la Lombardia, quindi un po' più verso i settori orientali. Questo, cari amici, il Natale che ci attende un Natale un po' più autunnale. Comunque, a prescindere dal tempo di vero cuore, vi auguro di trascorrere un bel sereno Natale in famiglia. Arrivederci!